schizzai un disegno da cinque anni insegnavo alle medie ogni mattina entravo in aula mettevo la firma sul registro di classe scrivevo la lezione del giorno aprivo il registro personale annotavo gli assenti e cominciavo a spiegare sempre così per cinque anni guardavo tanti miei colleghi che venivano a scuola facevano le loro ore di lezione e se ne andavano in fretta perché l'insegnamento era la loro seconda attività decisi di provare anch'io schizzai un disegno umoristico sulla condizione dell'insegnante maschio nella scuola e lo mandai al direttore della rivista didattica elettiva mi feci raccomandare da un collega e mi pubblicarono il disegno ricordo che quando vidi per la prima volta il mio nome sotto il mio disegno mi sembrò di scoprirmi di nuovo come uomo da allora sono passati sette anni adesso vendo disegni satirici di fatti di cronaca su un giornale importante siccome riesco ad ispirarmi solo in classe dopo una breve spiegazione do ai ragazzi un compito da fare mi metto bene in mente il tema da svolgere il resto con la matita sul foglio a poco a poco le forze misteriose e lente dell'ispirazione crescono dal nulla e io comincio a disegnare ansiosamente sono strane forze che mi vengono in segreto e con la complicità e nella confusione delle ore di scuola commento l'artista soffre qualsiasi cosa faccia perché non riesce mai ad esprimersi come vorrebbe d'altronde la proporzione evolutiva della sua vita il significato della vita dell'artista consiste proprio nel superare questa insoddisfazione 3 4 5 5 5 6